Grazie Abbiamo visto delle lingue di fumo che uscivano dalla finestra ci siamo preoccupati per le persone che erano lì vicino e qualcuno di sotto gli ha gridato di uscire fuori perché comunque le fiamme erano molto alte poi abbiamo chiamato i soccorsi, sono arrivati quasi immediatamente ed ora sono riusciti a spegnere Non dentro l'appartamento ma nelle finestre vicine quindi ci siamo preoccupati per loro perché erano dentro magari inconsapevoli di quello che sta succedendo Poi hanno evacuato il palazzo Sì, prontamente hanno evacuato tutto il palazzo Grazie 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 a tutti.